Appena finito il Gran Premio di Barcellona, decimo round del Mondiale di Formula 1, racing podcast dunque a caldo per il solito appuntamento settimanale alle 19 della domenica per quanto riguarda il motorsport sul mio canale. È stata la classica gara di Barcellona, quindi con pochissimi sorpassi, ma quelli che ci sono stati sono stati assolutamente interessanti e clamorosi, basata principalmente però sulla strategia, una strategia che ha visto un Landon Norris voglioso di confermare la qualposition ottenuta sabato in qualificazione, ma alla fine il copione non cambia, vince sempre Max Verstappen, settima vittoria in stagione. Anche se va detto che l'highlight del weekend di Barcellona non lo porta a casa Verstappen, lo porta a casa George Russell che da quarto in partenza in pista a Barcellona riesce con una partenza super a sorpassare addirittura tre piloti con il sorpasso addirittura in curva 1 all'esterno su Max Verstappen che francamente non se lo aspettava nessuno. Russell riesce a prendere la doppia scia di Norris e Verstappen che erano in lotta dopo aver passato Ebiton con una partenza sprint, alla fine l'inglese riesce a tirare la staccata della vita in curva 1, tenerla in pista e provare a fare qualcosa che prova a far saltare il banco. Alla fine in realtà non ci riuscirà, ma appunto l'highlight del weekend sicuramente sono la serie di sorpassi che ha compiuto Russell e anche il duello con Nando Norris in una stint di metà gara. Norris poi avrà una tentativa di strategia abbastanza interessante ma che purtroppo non arriverà a buon fine. Stesso discorso per Russell che era partito a fionda ma poi Verstappen lo supera il giro numero 3, Russell poi alla fine finirà fuori dal podio. Anche se appunto il pilota inglese avrà un grande highlight, non bello secondo me come il sorpasso in curva 1 ma appunto il grandissimo duello che si è visto con Lando Norris per la lotta per la provvisoria seconda e terza posizione è qualcosa di allucinante perché Norris in quel momento è con gomme medie più fresche rispetto a Russell, stesso di fatto compound di gomme per i due inglesi. Russell tenta la staccata in curva 1, i due inglesi vanno ruota a ruota con incroci di traiettoria da curva 1 di fatto fino a curva 6. Alla fine dopo aver percorso letteralmente mezza pista appunto side by side alla fine arriva il sorpasso definitivo di Lando Norris che avrà la meglio appunto di Russell per provare anche a raggiungere Max Verstappen che nel frattempo appunto dopo il sorpasso al giro numero 3 è riuscito evidentemente a imprimere il passo superiore quantomeno per la maggior parte della gara e a vincere ancora una volta la gara di Barcellona e la terza vittoria consecutiva per quanto riguarda Verstappen settima in stagione e per la 61esima volta in carriera suona Het Wilhelmus di nazionale olandese per un Verstappen che ancora una volta ci mette tanto del suo perché dove gli altri sbagliano o perdono tempo per fare i sorpassi Verstappen evidentemente non lo fa e riesce evidentemente a portare a casa quello che la Red Bull genericamente in questa fase storica non riesce a portare perché anche oggi si vede l'ennesima differenza tra Max Verstappen un fenomeno, un pluricampione e il suo compagno di squadra Sergio Perez che è finito questa volta a punti ma nelle parti basse della classifica per un campionato di Formula 1 che è sempre più indirizzato verso Mars Verstappen che appunto va a confermare la vittoria ottenuta in Canada di fatto qualche settimana fa, Norris nonostante una pole position arrivata per due centesimi o ventimillesimi se preferite torna ancora a secondo ma si toglie lo sfizio del giro più veloce, alla fine c'è una lotta intestina in casa Mercedes tra Russell e Hamilton e alla fine arriva il primo podio della stagione per Sir Lewis Hamilton che ha quasi 40 anni suonati torna sul podio in Mercedes dopo che non lo faceva dal Messico dell'anno scorso è vero che Hamilton non aveva una macchina così competitiva in questa stagione ma la Mercedes tutto sommato è cresciuta e si attesta di fatto come seconda barra terza squadra di fatto in pista in base appunto alle condizioni che si trova ad affrontare rispetto a Ferrari una Mercedes però che di fatto conferma le posizioni fatte in Canada perché sul circuito cittadino di Montreal Russell è arrivato terzo con Hamilton quarto con giro veloce, qui le posizioni si sono invertite ma qui Hamilton ha avuto una stagione migliore evidentemente anche un passo più importante rispetto al più giovane connazionale che comunque finisce quarto ma secondo me per quello che ha offerto e per quello che ha fatto si merita in questo caso il driver of the day perché già superare la Barcellona non è così facile soprattutto poi all'esterno in quelle condizioni rende Russell un meritevole candidato a questo titolo per la gara di Barcellona in realtà appunto la Mercedes poteva giocarsela solo con una macchina per il podio perché sulla carta evidentemente Norris e Verstappen ne avevano di più Russell secondo me poteva puntare al podio alla fine Hamilton ne ha avuto ovviamente la meglio va detto che nell'ultimo stinta c'è una differenza di prestazioni evidente che causa le due gomme di differenza rossa per Hamilton e ovviamente bianca per quanto riguarda Russell non abbiamo parlato ancora della Ferrari ve lo facciamo però scorrendo le posizioni della top 10 della classifica del campebo di Spagna Leclerc finisce quinto e Sainz finisce sesto Leclerc è stato protagonista anche con Sainz di un alterco chiamiamolo così con un ennesimo sorpasso tentato in curva 1 con Sainz che in realtà per me avrebbe anche ragione perché lo spagnolo in quel caso va all'esterno di curva 1 con la macchina già davanti Leclerc tira la staccata della vita accompagna fuori Sainz e in questo caso giustamente la direzione corse non interviene dando penalizzazione a Carlos Sainz rimane comunque una Ferrari abbastanza in colore come terza forza in campo senza se e senza ma perché sulla carta Mercedes e McLaren oltre che Verstappen sono evidentemente più forti ma appunto se contiamo il piloto landese da Red Bull, il piloto inglese su McLaren e le due Mercedes non c'è molto spazio per arrivare oltre queste posizioni è un netto miglioramento rispetto al Canada, il netto che ci voleva poco infatti in Canada ricordiamo entrambe le macchine fuori ma comunque anche qui a Barcellona nonostante gli aggiornamenti che dovevano e potevano evidentemente fare di più dopo il trionfo di Monaco è evidente che non hanno evidentemente pagato cosa invece che è successa per Mercedes e per McLaren certo rimane sempre un campionato molto indirizzato ma comunque con Verstappen vincitore ma non con quel margine di vantaggio è ovvio che i candidati se la possono giocare e fino in realtà a Leclerc con delle strategie azzeccate o circostanze fortuite ce la si può sempre giocare le altre posizioni invece per quanto riguarda il GP di Barcellona abbiamo la seconda McLaren in settima piazza con Oscar Piastri autore come sempre di una prestazione solida sempre appunto in un'occasione il pilota australiano ottavo è Sergio Perez che anche qui fa meglio del Canada ma appunto rende l'idea di come ci sia differenza tra il miglior pilota pagante della categoria ovvero appunto Sergio Perez per quanto sia un pilota che comunque i podi li porti a casa ma in questo momento la Red Bull è calata e lo si vede anche dalle posizioni di Sergio Perez chiudono la zona punti le due Alpine che si confermano sempre in crescita con nono Pierre Gasly e decimo Esteban Ocon evidentemente l'Alpine sta lottando con la Stone Martin per il ruolo di quinta forza in campo e al momento è due gare consecutive che la scuderia francese sta occupando questo ruolo al netto di una stagione iniziata malissima con una macchina non sviluppata ripeto è un campionato che comunque è indirizzato sempre verso Verstappen ma qualche elemento di interesse c'è perché per esempio la pole position a questo giro a Barcellona l'ha fatta Lando Norris di 20 millesimi e qualcosa evidentemente si può provare Norris probabilmente poteva azzardare qualcosa di diverso qualcuno ipotizzava addirittura una mescola bianca una mescolatura evidentemente per fare una sosta in meno è ovvio che gli ingegneri però hanno valutato che i tempi non erano propriamente idilliaci per provare una sosta sola e quindi si è puntato a un eventuale degardo gomme con delle gomme più fresche ma il passo di Verstappen in ogni caso era superiore e con strategie standard tendenzialmente mince Verstappen per i vari Norris, Leclerc, Russell eventualmente Hamilton qualora fosse in lotta per qualcosa contro Verstappen sarebbe opportuno azzardare qualcosa di diverso e non qualcosa di standard perché appunto in condizioni standard vince sempre Max Verstappen in questo caso la gomma dura però non ha funzionato e questo è il motivo per cui la macchina è la scartata basti vedere le prestazioni di Russell e soprattutto di Carlos Sainz che con la gomma dura non andavano e hanno fatto veramente fatica a gestire il passo nell'ultimo stint di gara è una Formula 1 che comunque qualche spunto di interesse lo ha lasciato nonostante appunto la gara di Barcelona notoriamente non si è nota per i sorpassi ma per le strategie per appunto la tattica high box Norris ha puntato evidentemente a un passo gara più importante con gomme più fresche non ci è riuscito vedremo se tra una settimana si ripeterà lo stesso copione in Austria terra di casa della Red Bull che anche qui parte ovviamente favorita ma Verstappen in realtà più che la Red Bull è favorito più o meno in tutte le piste calcoliamo che Verstappen ha vinto 7 gare su 10 in stagione e il Mondiale praticamente l'ha già vinto però comunque un Norris con strategie diverse un passo che comunque in alcuni tratti vicino a quello di Verstappen può regalare qualche soddisfazione come la vittoria capitata a Miami per una Formula 1 che farà un back to back to back da qui a tre settimane correranno tre settimane consecutive in Spagna, Austria e Gran Bretagna hanno corso anche le altre categorie di cui andiamo a parlare per concludere questo Racing Podcast per cominciare andiamo con la Formula 2 dove si conferma il leader del campionato Paul Aaron il pilota estone del team Mercedes in forza in realtà al team High Tech Grand Prix riesce evidentemente a fare dei punti importanti per aumentare il suo divario a 9 punti su Isaac Ajard che non vince né fa podi sono 100 i punti per l'Estone 91 per il francese per un weekend di Catalogna che vede due vittorie comunque importanti per Palmares la prima vittoria è quella della sprint race del francese Victor Martins francese del team Alpine che corre per il team ART un Victor Martins che però è croce delizia di questo weekend perché vince in gara 1 la gara sprint ma poi si ritira in gara 2 con un grande contatto con Dennis Hauger che era un uomo di classifica in seconda posizione per quanto riguarda la gara sprint abbiamo l'indiano Cushmeni pilota indiano anche lui del team Alpine quindi il team francese sta crescendo dei giovani veramente tanto importante di prospettiva e terzo invece quel Paul Aaron di cui sopra appunto ricordiamo lui è un pilota del Mercedes Junior Team c'è la vittoria statunitense invece in gara feature se ha suonato la marsigliese per Victor Martins suona The Stars Spongle Banner l'inno statunitense per Jack Crawford alla prima vittoria in carriera in Formula 2 lui che corre per il team Dance Crawford è un ex della Red Bull in seconda posizione abbiamo il pilota argentino Franco Colapinto che ricordo è un pilota Junior Williams in terza posizione abbiamo un altro americano e questo è un podio veramente significativo perché Juan Manuel Correa va a podio per una grande doppietta 1-3 del team Dance Correa ricordiamo fu il pilota coinvolto nell'incidente che purtroppo vide Antonio Baird perdere la vita e Correa fu quello che di fatto lo investì ha perso l'uso degli arti o ha rischiato comunque di perderlo ha fatto un grande percorso di riabilitazione e qui è tornato quindi ogni podio del americano Correa va sempre soltato con piacere apriamo però una parentesi italiana per concludere la parentesi Formula 2 Andrea Chimi Antonelli pilota tanto impredictato benissimo per l'anno prossimo sappiamo che la federazione internazionale ha cambiato il regolamento per permettere che Antonelli vada l'anno prossimo in Formula 1 qualcuno dice addirittura quest'anno al posto di Sergent in Williams che rischia di fare ancora una volta ventunesimo su venti piloti regolari e quindi le prestazioni non convincono a pieno mettiamola così il Sergente e la Williams Antonelli potrebbe essere impredictato di arrivare in Mercedes nel 2025 però appunto deve ancora comprare 18 anni la regola però è stata cambiata annetto che comunque Antonelli e tutto il team prema non ha fatto una prestazione sontuosa anzi quindicesimo in gara 1 dodicesimo in gara 2 ma appunto il passo sia del pilota bolognese Antonelli sia di Berman che tanto ha fatto bene in Formula 1 nel Gran Premio di Jedda non ha evidentemente impresso un gran passo certo Antonelli è giovane al primo anno in Formula 2 dopo un doppio salto di categoria gli va dato molto tempo io aspetterei di finire questa stagione e lo manderei l'anno prossimo in Formula 1 anche in Mercedes siccome comunque è tutto volto vado di una scommessa però appunto evitiamo di bruciare uno dei piloti italiani più talentosi degli ultimi anni detto questo passiamo a parlare della Formula 3 una Formula 3 che invece a differenza tra la Formula 2 non ha ancora un vero e proprio padrone ma anche qui l'Italia sorride perché il nuovo leader del campionato è il piacentino Leonardo Fornaroli dopo che evidentemente è stato anche lui nelle protezioni di testa insieme a Gabriele Mini fino al round di Barcellona eppure il round spagnolo sorride al pilota piacentino che con 84 punti è il leader del campionato davanti al pilota della Williams Luke Browning che anche lui corre per il team Hightech anche se le vittorie vanno a piloti decisamente interessanti a partire dalla gara sprint che vede la vittoria di Mariboya pilota spagnolo che dunque vince in casa e per lui suona la marcia reale in seconda posizione abbiamo l'irlandese Alexander Don pilota appunto che è appena entrato insieme al norvegese Martinus Stensorn nel programma junior della McLaren ed è primo podio in carriera in Formula 3 per il rookie irlandese in terza posizione nel momento c'è appunto quel pilota di cui parlavamo anche nell'appuntamento di Imola ovvero Oliver Goethe pilota del team campus che corre per il Red Bull junior team invece in gara sprint o meglio in gara feature si ripete Arvid Limblad pilota inglese della Red Bull che dunque vissa successo di gara iniziale in Bahrain esista in quarta posizione assoluta in questo campionato di Formula 3 in seconda posizione abbiamo Christian Mans il pilota australiano al secondo podio consecutivo in una feature race il pilota australiano corre per il team Art e terzo Leonardo Fornaroli di qui sopra e qui apriamo una grande parentesi perché Fornaroli si va a prendere il podio battendo Browning e Goethe all'ultimo giro del Gran Premio di Catalunia per quanto riguarda la feature race e con questi punti con una posizione in più di differenza rispetto a Browning i punti di differenza tra il piacentino e l'inglese sono 5 84 per Fornaroli 79 per Browning e anche qui così come Formula 1 e Formula 2 la Formula 3 farà un back to back to back il prossimo appuntamento tra una settimana in Austria l'altro italiano è stato Gabriele Mini che però un po' come Antonelli stesso team ricordiamo che Antonelli e Mini corrono per il team prema in Formula 2 e in Formula 3 non abbiamo avuto un passo straordinario un ritiro addirittura in gara sprint e un ventinesimo posto in disarmo per quanto riguarda appunto Mini che appunto non aveva veramente il passo per competere ad altri livelli stesso discorso è capitato anche per Dino Beganovic che a qualche punto lo fa l'unica prima che è andata bene è quella di Lindblad che infatti ha vinto Lindblad fa risuonare God Save The King l'inno inglese l'inno inglese che suona anche in F1 Academy serie di cui non abbiamo peraltro mai parlato ne approfittiamo in questo finale di Racing Podcast dove c'era l'iniziale duello tra la francese Dorian Penn del team Mercedes Junior Team e Abby Pulling dell'altea Junior Team Abby Pulling è praticamente sempre arrivata o prima o seconda vince anche gara 1 per quanto riguarda il sabato e per lei sono appunto God Save The King aumentando ancora di più il vantaggio rispetto a Dorian Penn ha di fatto una cifra considerabile di vantaggio sono 147 punti per la Pulling 81 per Dorian Penn in gara 1 il podio è comprato dalla spagnola Nerea Marti che va appunto a conquistare una buona seconda posizione nella gara di casa in terza piazza Chloe Chambers pilota statunitense del team Haas che però appunto avrà la soddisfazione enorme di dominare gara 2 e di portarsi a casa la prima vittoria della carriera e dunque anche per lei suona The Star Spanger Banner l'inno americano in seconda posizione la Abby Pulling di qui sopra il terzo posto invece appallaggio della Emiratina Amd Alcubesi la minore delle sorelle Alcubesi che corre per il team Prema una delle pilote degli Emirati Arabi sicuramente più competitiva è adatto in là comunque a questo giro di pilote nel Medio Oriente terza posizione primo podio in stagione per lei che corre per il team Red Bull e quindi abbiamo un primo podio della stagione per l'Emiratina le donne correranno a Zandvoort dove ci sarà come serie di contorno la Formula 2 e la Port Super Cup invece le altre categorie le vedremo tutte tra una settimana in Austria e questa è la classifica della Formula 1 aggiornata alla gara di Barcellona Versa per le prime 219 punti Norris supera i due punti Leclerc che si sa seconda in classifica 150 contro le Kerr 148 ma appunto il momentum è dalla parte di Norris che spero riesca a competere ancora di più rispetto a queste ultime gare e arrivare a una seconda vittoria in questa stagione oltre a quella di Miami il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo a un prossimo video Grazie a tutti